District of smoke, alette, un bello spiedone di crosta, spiedone con il grande torello e nel chubb andremo a fare le alette, avanti! District of smoke, piscina appena coperta, angolo relax e andiamo avanti, abbiamo appena messo le alette, qua abbiamo il banco di lavoro, qua abbiamo messo del pane all'aglio del Traeger 170 e qua abbiamo la costa, qua abbiamo la costa, lo spido, direi sta andando alla grande, altro abbraccio e attendiamo, aspettiamo con qualche drink, eccoci qua, alettine, perfette, il pane è pronto, e la costa direi che ci siamo, District of smoke, buon appetito!